Luca Comics & Games lancia nel suo ultimo giorno l'edizione 2022 di Collezionando, la manifestazione primaverile di Luca Crea dedicata al fumetto, all'illustrazione e ai collezionabili d'autore. Dopo due anni di interruzione, Collezionando ritorna praticamente al Polo Fiere, da dove è partito, da dove è nato. Ritorna il 5 e il 6 marzo del 2022, cercando di porsi come un appuntamento imperdibile per il mondo del collezionismo, di fumetto, di tavole originali, di 3D, dei mondi che contraddistinguono questa passione. Abbiamo sicuramente, attendiamo tanti espositori, molti hanno già dimostrato interesse nell'appuntamento primaverile, già adesso e quindi di questo siamo estremamente orgogliosi. Speriamo di mantenere le promesse, di poter offrire un prodotto come sempre alto e corrispondente alle attese degli espositori e dei visitatori. Due i grandi ospiti annunciati per la sesta edizione, Claudio Villa, disegnatore di Tex, e Silvia Ziche, una delle matite dell'universo Disney. Nei giorni di Collezionando, al Teatro del Giglio andrà in scena Lucrezia Forever, spettacolo di graphic novel theater, lanciato dalla Rai nell'edizione virtuale di Lucca Comics e divenuto ora, storia interpretata da Amanda Sandrelli.